E noi buttiamo via le cose per rifarle, va bene? E le rifacciamo sempre così. E lo spacciolino, addirittura questo spacciolino, lo devi buttare via perché ti avvisa lo spacciolino. Quelli che l'hanno costruiti sono gentilissimi. Quando devi buttarlo via ti avvisano perché si decolora. Che gentili che sono, no? Rischiavi di usarlo magari una mezz'oretta di più. Non vogliono, non vogliono. Allora prendi e butti via. Butti via. E quando butti via, quando buttiamo via, noi non ci interessa più. Buttiamo via. Qualcuno ci pensa. Chi lo sa, chi sarà. Non mi interessa, non è mica più mio, l'ho buttato via. E allora noi buttiamo via questo, che chi se ne fece, sono 10 grammi di plastica, ma la plastica si fa col petrolio. 10 grammi, butti via. Se moltiplichiamo 50 milioni di spazzolini, è già una petroliera piccola. E la buttiamo via. Questo qui va in un fornetto, questa plastica qui. Nel PVC c'è il cloruro e a 650 gradi il cloruro reagisce. Perché non è un vigliacco. Reagisce. E diventa diossina, che non è una bestemmia. È un gas. E la diossina va in cielo. E c'è l'aria che la trasporta per i prati, i campi, i mari, va sull'oceano. Piove, la diossina va in mare, in mare c'è il planto, in te si mangiano il planto, tu vai al ristorante e spendi 80 mila lire per un branzino, e ti sei mangiato il tuo cazzo di spazzolini. Grazie. 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 Grazie.